Noi abbiamo detto in modo assolutamente coerente, dal 4 dicembre cambiate legge elettorale, tenete la stessa elettorale, fate quello che volete, sapendo oltretutto con senso di realismo che non abbiamo i numeri per imporre una nostra legge elettorale, però dobbiamo tornare in un paese dove sia un principio di democrazia, dove sia una maggioranza eletta e voluta dai cittadini, perché è inaccettabile il terzo governo non eletto che si sussegue per giochi di palazzo o magari per qualche telefonata che arriva da Bruxelles che decida sulla pelle e sulla vita degli italiani. Quindi non abbiamo messo davanti la necessità di andare a elezioni il prima possibile. Dopo è chiaro, quindi abbiamo detto diamo il via libera a qualsiasi legge elettorale, che si facciano la legge che garantisca più posti a uno o all'altro, se la facciano basta andare al voto. E' chiaro che poi entrando nel merito della legge sorprende un po' le posizioni di alcune forze politiche, perché io ricordo che Forza Italia è sempre stata profondamente maggioritaria, quando le percentuali cambiano diventa proporzionale. E' siccome è profondamente sbagliato fare le leggi elettorali rispetto all'opportunità di fare un seggio meno in più. Si è per questo Berlusconi ha anche detto che vorrebbe lo sbaramento all'8%. Ma le dico di più. Guardi, chi fa le leggi su misura di solito è quello che viene penalizzato. L'abbiamo visto sia dalla destra che dalla sinistra. Uno pensa di fare le leggi elettorali. Quindi voi vi siete tirati fuori. Fate le su misura voi. Noi non ostruiamo, andiamo avanti. Il 5 Stelle che volevano, vi ricordate, scelta del candidato, preferenze, sono i cittadini che devono decidere, facciamo le parlamentarie online, è il sistema più bloccato che esista questo. Liste bloccate dove i cittadini non scelgono nulla. Perché non è vero che il collegio uniluminale è una farsa. Perché in realtà è tutta una ripartizione nazionale su un proporzionale dove farà scattare soltanto quei seggi nel listino bloccato e non entro nel tecnico, però che non scelgono gli elettori. Mi sono già un po' persa, e penso con me molti italiani, perché la legge elettorale è una di quelle cose che mi capiscono solo i politici. Però che lo sappiano chiaramente che è un sistema a liste bloccate. No, i collegi. Lo sai che non è così. Dopo però non entro nel tecnico. Ma non ce l'ho con voi. Però i 5 Stelle ci dicevano, non vogliamo, vogliamo che i cittadini scelgano, scelgano l'esatto opposto. E invece ognuno pensa ai fatti proprio. No, che più si vicino alle elezioni. L'abbiamo fatta anche noi, e questo è l'ora nel passato. Io do il merito questa volta, e lo dico chiaramente. L'abbiamo fatta anche noi, quindi prendo tutte le colte. A Matteo Salvini di essere super partes. Che ha detto, non chiediamo una legge fatta a sua misura per noi, fate una legge, perché altrimenti se andiamo avanti di questo passo... Ieri è venuto Salvini qui da me, e mentre eravamo in onda, è uscita un'agenzia di Bossi che ha detto Salvini, attento, è una fregatura totale questa legge per te. Ma guardi, se qualcuno pensa che noi possiamo fare le leggi, se uno voglia fare le leggi che gli convenga di più o di meno, ripeto, sbagliamo il percorso. Sappiamo, noi abbiamo 19 deputati e 13 senatori. Noi quello che chiediamo, ma non degli interessi della Lega, penso agli interessi degli italiani, di far scegliere di nuovo gli italiani con un voto democratico. Ma lo dico, chiudo solo. Posso solo dire una cosa, non è soltanto un principio di democrazia. Guardate che un governo forte, con la legittimazione del popolo, serve anche nei rapporti, per esempio, con gli altri paesi e con l'Europa. Esatto, ora ci arriviamo, questo è un altro tema, che ha cherenzi a sole.